Ciao a tutti, sono Antonio Severoni e questo è il mio punto vendita. Sono infatti lo store manager del Toy Center Bimbo Store di Rieti. Siete pronti per rivivere le avventure degli Avengers? Venite con me per sapere come fare. Vi presento Hulkbuster, la speciale armatura di Iron Man a prova di Hulk. Con il suo pugno a martello Hulkbuster è imbattibile e potete farlo interagire con gli altri Avengers elettronici con luci e frasi ad effetto. Hulkbuster tiene sempre alto il divertimento con le frasi tratte dal film e i suoni con effetti speciali. È pronto per farvi vivere tutte le avventure che volete. Come nel film, Hulkbuster e i suoi Avengers elettronici sono pronti per entrare in azione. Perché Hulkbuster è un giocattolo interattivo dotato di una tecnologia avanzata creata apposta per interagire con i vostri Avengers in miniatura. Potrete vivere le avventure dei vostri eroi ed essere così forti da distruggere gli avversari più potenti. È ora che siamo pronti a sconfiggere tutti i nemici. Vi possiamo salutare. È stato un piacere presentare Hulkbuster. Un abbraccio a tutti e Buon Natale! Buon Natale! E adesso, per presentare il nuovo giocattolo, nomino Federico Cori, store manager del Toy Center di Roma Flaminia. In bocca al lupo, Federico!